Ciao ragazzi buonasera vi faccio un mini video perché tanti me l'avete chiesto come saranno le prossime estrazioni con tutte queste feste perché il 25 dicembre è sabato, l'1 gennaio è sabato, il 6 gennaio è giovedì. Cosa succede? Eccole qua così avete il promemoria. Le prossime estrazioni sono martedì 21 dicembre, giovedì 23 dicembre, lunedì 27 dicembre, martedì 28 dicembre, giovedì 30 dicembre, lunedì 3 gennaio, martedì 4 gennaio, venerdì 7 gennaio e sabato 8 gennaio. Appuntatevi queste date perché molti, molti, molti non sanno che queste giornate qua c'era l'estrazione, adesso lo sapete, quindi al posto del 25 dicembre, al posto del 1 gennaio e a posto del 6 gennaio le date sono quelle che vedete, ok? Quindi diciamo che da qua alla settimana della Befana, dell'Epifania, le estrazioni sono queste qua, le prossime estrazioni dell'otto.